La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Manchester United Champions League, quarta giornata della fase a Gironi, mercoledì 7 novembre, ore 21. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Macchiotti 22 Lizzano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 8 8 8 03, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623. E sempre Forza Juve! Fino alla fine! Solo che corretto, fare di te la squadra, giusti di me, la Champions!